3, 2, 1, GO! Buongiorno ragazze e ragazzi! Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video! Questo video si tratta di un video molto 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 bello perché è un video dove ci saranno due nostri magichini Allora raga, lei si chiama Elisa e lui si chiama Anthony e sono appunto due nostri magichini parliamo del maschile perché non sei maschile e femmina quindi ok Allora, in pratica oggi ci intervisteranno diciamo, ci faranno delle domande e noi dovremo rispondere però possiamo decidere se passarle o rispondere quindi partiamo Il vostro film preferito? Allora, rispondi prima a te perché ci devo mettere No, allora, io aspetta Aspetta, sto pensando perché in questo periodo ne ho visti tanti ma tanti Coco, un film che sono andata a vedere al cinema e mi piace un sacco, è stata una storia bellissima, quindi sì A me non mi viene in mente però diciamo Coco sì anche a me perché io ne ho uno preferito però non mi ricordo il nome quindi, a niente vai andiamo avanti Il vostro sogno del cassetto Diventare una cantante perché sto studiando anche canto quindi mi piace tanto la passione di cantare quindi Quante idee chiuse nel cassetto Fantasia e fragilità Attrice, cantante ed influente Bambino per la mia città Ed il vento soffia forte Mi sono lasciato tutto indietro Il sole all'orizzonte Vedo le case da lontano Anche il sole e porte Ma per fortuna La sua mano E le sue panci rosse La vostra data di nascita? Allora, io sono nata il 20 giugno 2006 Io il 15 settembre 2009 E' il vostro video preferito di tutti quelli che vedo Allora, ce ne sono due La festa della mamma che mamma si è messa a piangere che se avete visto il video sapete già il motivo e l'altro che si è messa a piangere perché se piange lei piango io se piange mamma piango io quindi sì Il video del telefono Allora, invece a me il video del appunto dove io mi sono messa a piangere i video dove mamma si è messa a piangere e poi i vlog perché diciamo rappresentano un po' noi e quindi i vlog E voi potete? Perché mi piacciono dividere la vita con voi ecco quindi niente è il vostro regalo preferito di quelle che avete visto di quest'anno il nome ha di quest'anno le airpods e il profumo e poi io ho due parti poi l'anno scorso l'ipo x no io ne ho tre allora la fabbrica delle palle pazze la fabbrica delle batte bombe e l'edge mols bellissimo quindi questo e niente e niente si ok allora volete dire qualcosa? non so è che mi è piaciuto conoscervi dal libro e a noi ha fatto piacere mi piace molto molto noi siamo state contentissime che abbiamo avuto due magichine magichine a casa quindi allora in realtà loro non abitano a Napoli e praticamente diciamo proprio la storia completa no però ha detto che comunque in alcuni video ha escogitato un attimo com'era fatta il parco dove abitavamo cioè di questo genere e allora è arrivata qui perché per le vacanze stai a Napoli e poi lei ha fatto una cosa che è stata carissima a Natale non ha chiesto nessun regalo e ha chiesto di venire qui e incontrarci quindi noi siamo state molto contenti per questo quindi ok raga quindi siamo pronti a fare la fine? sì tu lo sai no? 3 2 1 quindi ragazzi questo era il video spero vi sia piaciuto mi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii se vi ho piaciuto altissimo altri colori andate su www.marghe giulia kawaii punto it vi ricordo che io Marg io e giulia insieme a voi formiamo la magic family cioè amore puro se vi è piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi al canale condividetelo dappertutto se ne ho piaciuto ssssshhhh